Sono fiero e orgoglioso di essere riuscito a portare finalmente, saremo per la prima volta, decine e centinaia di persone e professionisti nel campo del piede che arriveranno da tutta Italia, da tutta la Spagna e dalla Francia per parlare di un argomento ancora poco sviluppato in Italia che è la medicina del piede nello sport, che si chiama podologia dello sport o podietria dello sport. È un evento che avevamo già fatto a Rimini una volta anni fa e aveva avuto un grande successo ed aveva una valenza nazionale e questa volta abbiamo cercato di portare a livello internazionale alla ribalta questa importante questione perché nel mondo dello sport, calcio, tennis di alto livello professionistico, manca ancora la presenza costante della figura del podologo dello sport. E quindi questo vuole essere un momento sì di formazione, aggregazione e crescita ma anche un momento di diffusione di questa figura nel mondo sportivo. Ecco dottor Vagnina, lei segue anche due tra gli più importanti sportivi della provincia di Imperia, Sturaro e Fognini. Quali sono i problemi che può avere oggi lo sportivo? Ecco la cosa più banale da dire è che hanno a volte problemi ai piedi, quindi uno pensa che un podologo si occupi esclusivamente del piede e questa è la primaria esperienza che noi portiamo avanti. Fasciti plantari, dolori al tallone, metatrasalgie, problemi delle unghie, unghie incarnite, sono tutti problemi dermatologici, sono problemi che il podologo dello sport deve sapere affrontare e risolvere. Però molte volte il giocatore, il professionista viene da noi perché magari ha male a un ginocchio o ha male alla schiena o ha male a un'anca e si rende conto che nonostante un'ottima fisioterapia, un'ottima rieducazione, il fenomeno si rimanifesta. Perché c'è un problema alla base, all'appoggio che deriva dal piede e quindi noi cercando di capire se il piede ha dei difetti strutturali o funzionali e modificandole con terapie ortesiche, riabilitative, respiratorie che comunque sono globali, riusciamo a ridare un equilibrio per cui il fenomeno o la patologia che si manifesta nel distretto superiore, ginocchio, anca e schiena, viene corretto grazie al piede. Difficilmente questo ci pensano altri professionisti della sanità se non hanno questa esperienza, questa specialità nel capire il ruolo del piede nella salute generale dell'organismo. Abbiamo parlato di sportivi professionisti che però sono la minoranza tra gli sportivi. Chi invece fa sport amatoriale, il classico jogging o il calcetto con gli amici, quali sono i problemi ai quali può andare incontro e può essere utile il podologo dello sport anche in questo senso? Bella domanda, grazie. Assolutamente sì. Dovete immaginare un po' come il mondo della Formula 1, dove tutte le grandi ricerche vengono fatte per la competizione massima, ma poi quello che viene studiato e imparato lì viene poi trasmesso anche alle vetture quotidiane, alla Panda, alla FIA di tutti i giorni. Lo stesso fa il podologo sport, quello che impara a questi livelli alti viene poi trasmesso anche nei bambini, nei ragazzi che fanno sport, perché anche questi bambini vedete che si lamentano e vengono da noi a volte perché hanno dolori al tallone, dolori alla pianta del piede, dolori alle caviglie, dolori alle ginocchia e quindi poi le cause che creano questi fenomeni sono assimilabili e noi trasportiamo la nostra esperienza studiata sui campi dei professionisti anche nella vita di tutti i giorni per chi fa sport amatoriale. L'amatoriale ancora di più deve fare prevenzione perché non ha la stessa preparazione, la stessa elasticità, la stessa forza che ha un professionista e quindi un plantare, una riabilitazione mirata sicuramente è fondamentale per fare sport in salute perché se no lo sport può diventare negativo.